Allora, mi sentite? Sì? Abbiamo detto che il paziente deve essere digiuno e non è questo caso, come vedete lo stomaco è ancora disteso, però cerchiamo di arrangiarci ugualmente e di vedere che cosa ci fa vedere. Iniziamo dalla vena a porta. Il cursore, se lo vedete, ci fa vedere i rami intraepatici della vena a porta. Fammi un respiro grande, tieni l'aria, ecco qua. Questa è la cava che arriva qui giù con le sovraepatiche. Riduco poco poco l'immagine, ecco qua, una, due e tre. Vedete che anche qui le pareti hanno colore diverso. Se ruoto la sonda sulla vena cava, avrò l'immagine che vi ho fatto vedere prima. Quindi l'attrio, la nostra cava che possiamo misurare, se fate attenzione si può vedere anche il flusso. Una bellissima arteria renale destra. Vedete i rapporti che contrae col fegato, la colecisti, anzi questa è la vena a porta, che arriva così, no no tranquilla, e viene su. Se metto il colore, devo trovare il colore, ok. L'immagine che vi ho fatto vedere con la vena splenica rossa, poi c'è un pezzettino senza segnale, e la vena a porta che diventa blu. La orta e la cava. Adesso torno un attimino al bianco e nero e in questa sede, con una rotazione di 90 gradi in senso orario, vado a recuperarmi la vena mesenterica superiore, che è questa qua. Ok? Qui ricordiamo l'origine del tripode, l'arteria mesenterica superiore, la vena la troviamo qui. Questa è sempre la nostra porta e il punto dove noi andiamo a misurarla è il punto in cui incrocia l'arteria epatica, quindi tripode celiaco, arteria epatica, vena a porta. Vedete come passa l'arteria epatica superficialmente e anteriormente alla vena a porta. Noi dobbiamo misurare la vena a porta in questo punto. In profondità continuiamo a vedere la cava e vediamo l'arrivo, vedete questa specie di allungamento, questo non è altro che l'arrivo, la confluenza della vena renale di sinistra che passa nella forcella tra l'arteria mesenterica superiore e la orta. In profondità vediamo i corpi vertebrali e superficialmente alla porta vediamo il pancreas. Corpo, testa e coda. L'avena splenica la perdiamo in questa sede, un po' perché abbiamo il colon disteso, ma possiamo andare a cercarla attraverso l'ilo splenico, dove vedete come sono piccole i rami di questa vena splenica rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima nel video. Sono rami abbastanza lineari, se gli metto il colore hanno flussi, ovviamente ci sarà l'arteria e la vena, quindi avremo flussi in allontanamento, in avvicinamento, ma non hanno quell'aspetto convoluto e tortuoso che vi ho fatto vedere prima. Quindi abbiamo visto la vena splenica, la vena mesenterica superiore, la vena porta, le vene sovrepatiche, la vena cava. La vena cava la riprendiamo un attimo perché ne abbiamo parlato diffusamente, la possiamo cercare anche ovviamente più in basso e nel tratto addominale più prossimo alla linea umbilicale vediamo la orta che si biforca e alla sua destra la vena cava. Quando ho parlato di portata ho detto che la portata è difficile da misurare in queste vene, perché se voi fate caso, la vena è questa di sinistra e è difficile da delimitare, da vedere nelle sue pareti e non ci dà, ed ha anche una morfologia, vedete qui, io sto schiacciando per poterla vedere e come la schiaccio la faccio diventare per definizione più piccola e quindi valutare una portata è complesso. La paziente è paziente ideale perché giovane e magra, noi riusciamo a passare attraverso i dischi a vedere anche il corpo vertebrale, se fate attenzione qua giù si legge anche la marca del lettino. Diciamo che finisce qui, a meno che non vogliamo fare una valutazione del pulsato e allora fai un respiro e tieni l'aria, ok? il flusso trifasico di cui abbiamo parlato a livello delle sovraepatiche, posso prendermi la cava e andare a vedere qual è il flusso a livello cavale nel tratto pre-ostiale e quindi sempre un flusso trifasico, adesso mi sono un po' mosso. Posso farvi vedere qualcos'altro tipo la variazione in dinamica respiratoria della vena a porta, la vena a porta come vedete è questa qua, fammi un respiro e tieni l'aria, il vaso si dilatta, dai fuori l'aria e il vaso torna più piccino. Posso farvi sentire il flusso a livello portale. Vedete che è un flusso continuo ma con una importante variazione nella dinamica respiratoria. Questo è un segno di buona compliance da parte del fegato che si lascia attraversare facilmente e non ha invece un'opposizione al transito come abbiamo visto nelle cirrosi. A questo punto non so proprio più che cosa farvi vedere.